ebbene sì come avete letto e capito dal titolo questa sarà l'ultima volta che vedrete emettina con me ciao ragazzi benvenuti finalmente in questo nuovissimo video sì è così praticamente ho deciso di vendere la moto e cambiare moto anche se da poco è uscito il video in cui appunto ritiro emettina dal meccanico e appunto ho fatto quello che dovevo fare alla moto per aggiustarla e per riportarla in sesto e niente quindi sì la vendo questo sarà un video rapidissimo giusto per informarvi e per farvi vedere per l'ultima volta emettina con me la vendo per un passaggio a non ve lo dirò ovviamente perché arriverà a breve il video della nuova moto e ragazzi ovviamente è inutile dirvi che sono felicissimo mi dispiace davvero tanto lasciare lei perché comunque diciamo che sul canale sono nato con lei e è una moto che come vi ho detto anche nello scorso video regala tantissime emozioni me ne ha sempre regalate però è arrivato il momento di fare un upgrade passare a un next level e basta la mia felicità può farvi solo minimamente capire a cosa andrò incontro a che mezzo si troverà sotto il mio culo e cosa vedrete nel futuro del canale quindi niente per questo brevissimo video è tutto io ovviamente per la notizia spero vi sia piaciuto nel caso fosse così lasciate un bel mi piace qua sotto commentate condividete con tutti i vostri amici iscrivetevi al canale seguitemi su instagram trovate il banner qui in sovraimpressione e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video con la prossima moto iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale